ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro episodio dedicato ai vostri video eccoci qua come ogni tanto capita con un altro episodio dedicato alla rubrica video reaction cioè reazione ai vostri video più che i vostri video ai vostri orologi che sono dentro al video alle vostre collezioni di segnatempo che voi vi vantate tanto di avere con gli amici e poi quando è il momento di rendere le pubbliche insomma un po di strezzetta viene no e ora dobbiamo passare l'esame del pubblico che lo guarda ma in realtà non è un esame perché ognuno fa come gli pare cioè qua si scherza e si gioca perché gli orologi che scegliete ve li scegliete voi ve li godete voi e nessuno vi può dire niente poi logico che se mi mandate il videino io vi dico cosa penso perché siete voi che me lo chiedete io non è che vengo a casa vostra busso apro la porta dico mi impollichi i orologi che c'hai no non lo faccio siete voi che venite a casa mia bussate apri io apro e mi dite cosa ne pensi io ti dico cosa ne penso non è che ti leggo per farti piacere ti dico quello che penso no è giusto così ho detto questo come partecipare lo sapete no vi mostro l'orologio del giorno che è questo bellissimo oris diver 65 acciaio e bronzo 40 mm di diametro cassa quadrante blu notte calibro sellite sv200 e simpaticamente patinato perché col passare del tempo il bronzo fa ossida ossida semplicemente uno mi ha chiesto ma perché non fai un video sulla patina del bronzo ma come faccio un video sulla patina del bronzo e cosa viene fuori cosa dico è una reazione chimica che avviene come come la ruggine nel ferro cioè ossido no quindi a proposito un amico del canale mi ha chiesto sotto l'ultimo video una domanda interessante quale fosse l'orologio più anziano della mia collezione cioè quello che ho in collezione da più tempo praticamente quello che è invendibile è questo qua loris diver 65 si aggiudica la palma il trofeo per essere l'orologio più vecchio nella mia collezione quello che ho da più tempo cioè ce ne sono stati prima che poi magari ho venduto dopo di questo alcuni che ho preso dopo e continuano ad esserci ma questo qua è il più anziano praticamente quello lo si potrebbe definire come il mio orologio se dovevi se dovessi fare un lascito a qualcuno qual è il tuo orologio è questo qua praticamente poi tutto velo graffiato vissuto perché lo utilizzo anche spesso è un bello orologio mi è sempre piaciuto mi piace e mi piacerà indice pronto a distruggere la barra spaziatrice che come sempre subirà i colpi del destino fuoco alle polveri ciao davide sono davide e volevo mostrarti la mia collezione di orologi entry level facci godere vai iniziamo con il tuo preferito omega moose watch e vabbè giocattolo da l'orologio che so tu ami tanto ma no ma big bold ironi gonfia come si suol dire bostock con mandischi col suo bel sommergibilo da 40 40 bello bello lockman island ali timex expedition quarzo 30 euro seiko solar placcato anni 80 al quarzo un altro quarzo un seiko 5 razer un seiko 5 è molto carino ce l'avevo anch'io blu e giallo sector automatico con movimento nh 70 brutto assai raywell anni 70 a carica manuale con microsecondi ore 6 microsecondi microsecondi l'altro anni 70 a carica manuale questo mortima che bei nomi mortima eh mortima mamma mia anche brutto e poi volevo mostrarti questo lanco bellino anni 60 questo è bellino assai oh perfettamente funzionante perfettamente è placata la cassa cos'è mi sai di sì un po vissuto però eh vabbè se la vi un lorenz lorenz diver da 44 mm altro orologio da 50 euro cioè c'è un bel po di orologi così è spiccioli orient cano da 44 cano bau bau eh 44 ti piacciono tutti i grandi ti so prx un quarzo anche questo quale è speso che deve soldi però ti piace a te ti si può dire niente citizen pro master eco drive gonfia un altro quarzo in questa colorazione oro rosa vagari gmatic acqua da 40 questo è carino mi piace il suo fratellino più grande vagari gmatic acqua 101 fratellino più grande con movimento miota della serie 8000 fratellino più grande va bene dai miota per forza eco 5 sport suite da 42 con questo quadrante champagne e cinturino maglia milano bulova lunar pilot ma certo simpatico bulova chronograph c stars and stripes anche questo si rifà un orologio bulova degli anni settanta mai visto questo qua strano particolare tondeggioante tondeggioante torino originale meno male hamilton hamilton kaki field kaki king classico bellissimo mi sembra che sia kaki king questo venezianico venezianico dei gmt ma che bello finalmente dopo l'occo ma ci sta ci sta sì sì so che tu non ami tanto il venezianico però come qualità costruttiva credo sia sicuramente però io vedo qua il 12 sulla 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 ghiera che non è allineato all'indice a ore 6 sarà ruotata la ghiera oppure l'errore di parallasse non lo so dimelo te perché io quello vedo fuori fuori fase comunque dai dicelo dicelo te discutibili sono fatti davvero bene sono fatti davvero bene sì zenith defy surf surface stainless steel da 37 mm direttamente dagli anni settanta è un po' vissuto è certo è suo bello ma forse anche questo è il suo bello è il suo bello fa il suo ultimo arrivato questo long shin the just full gold peccato full gold sprecato niente davide questa è la mia collezione volevo sapere così cosa ne pensi cosa ne pensi un abbraccio un abbraccio presto 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 cosa ne pensi partiamo da questo qua ultimo che long shin io sono un estimatore di long shin poi full gold così anche se un po' pesante visivamente cioè lo vorrei un bel long shin full gold no però non questo questo qua è veramente una un'ispirazione una copia del rolex dejast no a dimostrazione che gli orologi le copie tra virgolette le facevano un po' tutti è mi viene in mente degli zenith uguali al dejast degli oyer uguali al submariner anche altre case c'erano che i tudor per esempio no noi sono case blasonate che poi a volte cadono o cadevano perché fortunatamente ultimamente un po' meno mi viene in mente che potrebbe essere anche il periodo perché si sta parlando sempre degli anni 2000 anni 90 2000 primi 2000 in cui cadevano in questo in questo tranello no e secondo me a ragionarci sopra potrebbe anche essere il fatto che in quel periodo non era ancora arrivata il riscatto dell'orologeria meccanica per il pregio per il collezionismo a questi fini no e quindi le vendite latitavano si tentava di galleggiare per vendere le case andavano a copiare il design di quelli che vendevano c'erano i rolex no quindi cadono queste cadute di stile qua come questo longin dejast come hai detto te che che non si può vedere no però anche qui un conto sono le case blasonate che hanno come è stampato lì la storia hanno sempre fatto orologi come si deve da sempre poi a un certo punto o qualche volta cadono nel copiare ispirarsi realizzare orologi simili ad altri a un conto sono le case che nascono con solo quello scopo no almeno questo dobbiamo differenziarlo cioè chi apre la partita iva crea uno scatolone e comincia a costruire orologi che sono copie degli orologi che sono a catalogo adesso di quelli più famosi cioè è un'altra roba lì voler puntare a quello e basta oppure caderci ogni tanto per bisogno tra virgolette no va bene comunque non lo vorrei io quello jingling full gold cioè o perlomeno lo fonderei e venderei l'oro assieme a questi punti poi per il resto la collezione come è a un certo punto io ho detto ma cavoli ma c'hai tutti i orologi da 50 a 100 euro cioè non ti sei stufato ad averne 20 di questo di questo tipo qua quarzoni non quarzoni ma sempre tutti entri poi dopo ti sei un po tirato su con gli emilton con degli orologi che e allora lì mi sono un po rimangiato il pensiero che sarebbe quello di a un certo punto piuttosto che continuare a comprare orologi al quarto da 50 euro da 100 euro anche meccanici e ce n'hai 20 10 vendili vendili e con ci fai mille euro 700 euro 600 euro ti prendi un bello orologio meccanico di livello superiore un bel 6 chino ci sta di secondo polso a quelle cifre lì e veramente vai sul tranquillo ecco questa è l'unica cosa tantissimi orologi entry level da poco che insomma per spizio vanno bene 1 2 3 no poi dopo anche basta sempre andare a comprare quegli orologi lì comunque non sono io che devo dirti cosa devi fare lo sai da solo quindi avanti così ciao davide complimenti per il canale grazie oggi ti mostro la mia collezione che spero che ti piaccia speriamo allora parto con il primo orologio vai ecco cercherò di essere il più veloce possibile speriamo allora il primo orologio che ti mostro è questo rolex dayjust gonfia millimetri top referenza 1 2 6 3 3 4 mamma mia bracciale giubilè ghiera enoro bianco e quadrante blu bellissimo bellissimo io ce l'ho acciaio e oro ma mi piace anche questo quasi uguale bello perfetto in ogni occasione bravo secondo orologio che ti mostro è questo rolex yacht master gonfia top della configurazione acciaio oro rosa bello bello grande nero lo vorrei proprio questo mi sono innamorato subito di questo orologio che è più un orologio gioiello eh sì però al suo fascino diciamo così sì 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 ci piace molto io sinceramente lo vorrei uno questo qua sì acciaio oro così mi garba ci sta anche bene insieme guarda lì eh il terzo orologio che ti mostro eh è un grande classico che tutti noi conosciamo e basta e questo rolex su mare ne accoglie la merda bravo millimetri eh orologio su cui c'è poco da dire che c'è poco da dire fai su è una delle icone di rolex starbuck il quarto orologio anzi te ne mostro due vai facciamo il doppio quarto e il quinto quarto e sono questi tudor uguali dove ho acquistato il black bay 58 per la per mia moglie ah insieme ho acquistato anche quest'altro black bay da 41 mm per me ah quello è da 41 mm orologi per tutti i giorni non danno nell'occhio no l'avevo scambiato per l'avevo scambiato per il black bay blu da 339 invece è 41 ma adesso ti li metto qua tutti cosa almeno riesci a vederli tutti bene che bello il sesto orologio che ti mostro è questo rolex date referenza 15 200 bruttino 4 mm è stato il mio primo orologio che ho acquistato non piace a me con quei numeri lì purtroppo non lo uso più tanto e beh usi gli altri mettilo lì dai altro orologio che ti mostro eh sì non è l'ultimo perché l'ho acquistato proprio ieri è questo rolex date che è il gemello di questo è un po' meglio però completamente in oro no e poi c'è anche gli indici più belli diciamo la verità questo qua un orologio molto elegante eh un signor rollo nonostante che sia da 34 mm veste bene sul polso e mi dà tante soddisfazioni tante soddisfazioni bravo così ti voglio l'ho cercato e ieri passato tra le vetrine l'ho trovato e l'ho acquistato e cos'è mi sono fatto regati natale bravo l'ultimo orologio che ti mostro è questo Synchron e che è? in oro rosa che è? un orologio di cui non so nulla era mio zio lo tengo in collezione per ricordo va bene per l'on simpatico l'ultimo orologio ancora così può partire il fake c'è un fake alert ah c'è un fake ma no eccolo qui questo swatch in collaborazione con Omega ma sì un orologio simpatico simpatico diciamo un giocattolo per certo utilizzare in estate al mare è certo proprio il suo al mare è di plastica al mare ma smettila io ho finito la mia collezione Davide spero che ti sia piaciuta ho fatto in modo che sia il più veloce possibile basta va bene ciao Davide ciao 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 niente tutti i belli orologi tutti i belli orologi ci mettiamo dentro anche lo svocino lì ci sta un po' un po' sbilanciata su Rolex che poi insomma ognuno fa quello che vuole certo però c'è tre pezzoni lassù in cima di Rolex più due semi vintage neo vintage insomma a volte uno gli può venire anche lo scheribizzo la voglia di avere un altro marchio importante in collezione un Omega un uno Zenith no no lì c'hai cinque Rolex due Tudor ma si è un po' monotematico diciamo la verità si potrebbe fare meglio anche se per l'amor del cielo lo Yachtmaster così acciaio oro a me mi piace io non l'ho mai provato il polso e questo è un cruccio quindi no magari anche quando ne ho avuto la possibilità magari lo snobbavo quindi non l'ho guardato 10 ore ultimamente comincia a piacermi e acciaio oro e acciaio a me piacciono gli orologi oro acciaio c'è anche il Digest oro acciaio e farebbe farebbe un bel pantan farebbe un bel pantan con il suo amico comunque va bene si è promosso per l'amor del cielo quello che non si sa cos'è non si sa cos'è e rimarrà così sconosciuto ai più prossimo video ciao grandissimo Davide da Parma ti volevo fare i miei complimenti sei davvero molto gradevole è molto piacevole seguire i tuoi video divertenti sei veramente molto simpatico e anche molto preparato e grazie ai tuoi video e grazie a te mi sono appassionato anch'io a diciamo a collezionare questi segni a tempo bravo però vediamo la tovaglia qua con tutte le letterine i cuoricini sarà sicuramente una tovaglia natalizia l'avrei fatto sotto Natale ormai i video che sto mettendo online sono quelli di prima di Natale va bene dai sei parmigiano diciamo che ho 44 anni e da quando avevo comunque 20 anni che mi piacevano gli orologi però chiaramente le possibilità economiche erano quelle che erano anche adesso lo sono però diciamo che ultimamente guardando i tuoi video mi è mi si è sviluppata molto questo interesse qua sviluppata e quindi adesso piano piano sto cercando di andare insieme più su come come prestigio diciamo degli orologi sono ancora tutti orologi molto modesti il prossimo che mi sono regato per Natale lo vado a tiare stima prossima è un Tudor Royal 41 mm in quadrante blu che è l'entry level comunque della Tudor è un orologio che mi piace tantissimo l'ho provato e mi sta molto bene diciamo che magari preferisco adesso comprare meno orologini da 300-400-500 euro e magari prenderne meno ma di valore va bene mi sono già regato troppo comunque sei grandissimo allora il primo orologio ciofecale assicuro comunque avevo 20 anni e me lo sono goduto per parecchi anni un sector no limits che allora c'era tantissima pubblicità e un orologio che comunque quando avevo 20 anni era piacevole insomma ricordo un po' il quadrante un po' del Pepsi va bene comunque anche se non c'entra lui ora questo qua non è per essere è un finto cronografo perché c'è i suoi bei pulsantini sul lato destro come fosse un cronografo poi in realtà i sottocontatori sono uno il giorno della settimana uno i mesi i giorni del mese 31 arriva fino a 31 il datario e quello a ore 6 e le 24 ore quindi no è una pagliacciata sto orologio anzi ora gliela do ho voluto risparmiargliela ma adesso che vediamo un pochino come è fatto diciamo che è una cioppechina un cronografo attualmente ha la batteria scarica però quando avevo 20 anni insomma a me lo govevo diciamo che mi piacevano questi padelloni qua bravo adesso la qualità di sector è peggiorata e invece quello lì era bello un altro cioo feca però va bene così avrà 17 anni un fossil però dalla linea secondo me gradevole e anche non è una scopiazzatura di qualsiasi altro orologio ma no è brutto di suo devo cambiare la batteria carino e batteria ti lasciano a piedi poi ti faccio vedere due orologi estivi che mi sono comprato quest'estate due estate fa per l'estate me le sono goduti tantissimo cronografi impermeabili a 200 metri in autica mamma mia questo quadrante avorio con lunetta rossa e nera cronografo orologi pagati 100 euro in offerta quindi anche troppo veramente benissimo ma anche secondo me con qualità costruttiva non sono male mi immagino invece questo qua è quadrante nero sono due modelli diversi anche questo come quell'altro c'è un errore di concetto cioè la lancetta grande centrale dovrebbe essere quella cronografica e invece è quella dei secondi continui mentre quella cronografica è nel quadrantino ad ore 6 una bella ciofecata gialla e nera però vedete che anche i dettagli non sono poi male male ma no sono due orologi senza pretese per l'estate c'è anche le indosso bagni tuffi e qualsiasi altra cosa però insomma io lo faccio con questo qui c'ho un mido ocean star acqua dura un orologio che ho compratto all'asta purtroppo non avevo visto la misura della cassa è un po' piccolino per me nuovo ho pagato pochissimo sui 150 euro ecco ora sti 150 euro qua non erano risparmiabili cosa ti porta in casa avere questo qua da 30 mm che non indosserai mai a mezzo placato oro che non te ne frega niente è l'acquisto compulsivo la voglia di avere un numero elevato di orologi in collezione almeno c'erano tanti almeno fanno un numero ho capito ma se tante cacchette tutte insieme fanno un numero ma poi puzzano di più no? come ci suol dire quindi era evitabile questo all'inizio ho detto che hai l'intenzione giustamente di non prendere più tanti orologi di un certo e aspettare il livello superiore va bene va benissimo questo qua era uno di quegli esempi evitabili mi piace molto come è fatto però è un po' piccolino l'ho indossato qualche volta a batteria a batteria e ti rimane lì vediamo cosa posso farti vedere poi ti faccio vedere due orologi di un'azienda italiana che non so se la conosci sono molto degli omaggi questo per dire è un omaggio del submariner Hulk è una marca italiana Tecno Tempo questo è Wind Rose 200 metri di profondità con movimento Seiko NH35 sono questi qua sono gli orologi da catalogo già detto mille volte se ti avrai sul sito web Tecno Tempo ti trovi già io quando vedo su un catalogo di un marchio Tecno Tempo come fosse Tecno Tempo che ci sono 70 referenze poi queste 70 referenze declinate sotto in altri 6, 7, 8 modelli che mi diventano 300 e significa che sono orologi da catalogo cioè me ne fai 10 così 10 così 10 così 10 così con scritto Tecno Tempo sopra grazie arrivano e poi ti fai il ricarico e li vendi non c'è niente dietro non c'è proprio niente infatti questi orologi qua è lo stesso modello di altri di altre decine con un marchio diverso proprio niente di niente capito sono evitabili questi sono gli orologi evitabili scusate se ve lo dico ma secondo me è così sono delle serie limitate solo 100 pezzi al mondo ecco poi questa cosa delle serie limitate solo 100 pezzi al mondo non sono serie limitate è che ne hanno fatti 100 perché se ne fanno 100 perché se io devo fare l'orologio del canale vado da dove l'ha fatto Tecno Tempo ci scrivo gli dico mi ci scrivete sopra contatori del tempo e quanti ne facciamo e facciamone 100 ne piglio 100 ma li porto a casa ve li vendo a voi ci guadagno sopra e dico è una serie limitata a 100 pezzi cioè ne ho fatti fare solo 100 ne ho fatti fare solo 100 io perché se no spendevo di più perché se ne volevo far fare di più ne facevo di più cioè sono i batch che sono così non è una serie limitata è una serie limitata serie limitata la si deve definire di un modello ad esempio facciamo una sparata esiste il Submariner butta caso cosa che non è mai successa butta caso che Rolex decide di fare una serie limitata di 100 pezzi del Submariner dedicata a un qualcosa che è un qualcosa di particolare quella è una serie limitata ci saranno solo 100 pezzi al mondo di quell'orologio fatti così ma non che te mi fai partire un modello già serie limitata produzione limitata la produzione limitata non è una serie limitata deve essere dedicata a qualcosa all'interno di una collezione più ampia mi sono spiegato poi dopo mi altero dopo mi altero ma insomma orologi senza troppe petrese presi all'asta me li godo me li uso un movimento preciso insomma niente di che fanno la loro sporca figura ma anche no ma buttalo via e questo è sempre della stessa marca ce l'avevo anche oggi me lo sono appena tolto è un chiaro omaggio al GMT Master 2 e anche infatti lui si chiama GMT Automatic 220 profondità movimento NH34 va bene sempre anche lui limitato 100 pezzi sì al mondo ne fan 100 meno male meno male poi un bel citizen citizen veramente da tutti i giorni molto carino molto economico molto elegante poi c'è un movimento spettacolare ecodrive veramente me lo sono goduto me lo godo senza pretese ma veramente ha il fatto suo senza pretese citizen citizen mi piace movimento automatico 100 metri va carino sfizioso ha il difetto che quando gli dai uno scossone si ferma il movimento si ferma la lancetta però allora questo qua non è un difetto è proprio una caratteristica sia di questo qua come avevo anche il vostro carica manuale sono quei calibri che nascono il Miota 8000 questo sono quei calibri che nascono con i piccoli secondi a ore 6 e poi riportano la lancetta al centro quindi ci vuole un altro ingranaggino che riporta da ore 6 al centro un treno di ruote una e cosa succede che c'è una molletta dietro di acciaio che tiene premuta la sfera dei secondi il pignoncino della sfera dei secondi quando te fai un movimento brusco ci sono le ruote una ruota che scatta e il tempo che intercorre tra l'aggancio della ruota all'altra la sfera si ferma se ti fai così forte la vedi ferma poi riparte ma riparte seguendo il corretto tempo quindi non inficia la cronometria non è che sballa l'orario che se fai così si ferma per un secondo e hai perso un secondo no lo recupera subito con il salto è una caratteristica può essere fastidiosa poi non tutti lo fanno probabilmente dipende anche dalla forza di quella molletta lì una volta provato a regolare quella molla lì sul vostro con il manuale ho fatto un casino poi l'ho portato dall'orologiaio perché se quella lì è alla giusta tensione però non troppa perché sennò poi non gira più nemmeno la lancetta cioè capito è un po' un sistema così però un difetto sì è un difetto ma non è un difetto è una caratteristica perché non è un difetto non è che inficia qualcosa se ti fai così si ferma un attimo poi riparte è un difetto del movimento un calibro 82 10 eh sempre insomma sono fatti bene Bulova vai Marine Star cronografo un orologio che a me piace tantissimo un quarzò elegante fa la sua presenza poi comunque è molto preciso mi piace molto indossarlo mi piace molto non è la solita scopiazzata dei Rolex diciamo che i Bulova mi piacciono adesso c'è un modello nuovo non ricordo come si chiama comunque rosso molto bello Devil Diver questo è un un altro orologio automatico Ublast non so se è una macchina che conosci ha dei prezzi esagerati io l'ho preso all'asta ma non si possono comprare questi orologi poco l'ho indossato una volta comunque ha il movimento automatico anche lui l'NH35 anche questi qua sono orologi che lasciano il tempo che trovano la differenza è che questi qua sono una barcata di soldi cioè te li mettono non mi ricordo 1.6 forse mi sembra cioè sono senza arte né parte e anche costosi probabilmente il costo alto lo mettono per mascherare la pochezza cioè se io ti do come indizio il prezzo ti pensi per forza che debba essere fatto bene e ci abbia qualcosa di particolare fare un design tutto che costano tanto va bene un chiaro omage al Submariner direi e poi un'altra marca che a te ed è l'ultimo che a te so che insomma una volta fatto ti avvia un video adesso non mi ricordo comunque Lockman una ditta italiana che ha sede all'isola d'Elba stelta automatico di c'atmosfera con fondello in titanio secondo me sono orologi fatti molto molto bene meno male movimento automatico e niente insomma tutto qui adesso arriverà il Tudor nella famiglia meno male e niente ti ringrazio grazie a te spero ma non credo di aver ricevuto neanche un top però va bene così l'importante essere della famiglia degli amatori dei contatori del tempo ma certo ciao grande davide ciao 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 non se ne è salvato uno ma veramente si è messi male qua si è salvato uno ci sono gli orologini sono tutti un pochino più o meno ma però ma perché ma però ma perché mi domando avere 30 orologi così giustamente sei arrivato al Tudor Royal siamo veramente quasi esagerato come salto da questi qua a quello là in mezzo c'è tutto un mondo che potresti anche assaggiare ogni tanto di cosa sa questo Hamilton di cosa sa questo Squal per dire per divertirsi un po' stesso discorso di prima io ne venderei buona parte di questi se qualcuno magnanimo li compra si degna di volgere lo sguardo guardarli e dire ti do 10 euro li venderei e ve ne farei uno di media perché ora tanto prendi il Tudor Royal poi non è che lo indossi tutti i giorni perché dopo è una reliquia lo devi mettere nella vetrinetta guardarlo lo indosso si rovina e quindi ci vorrebbe qualche altro orologio una via di mezzo da utilizzare un po' tutti i giorni per farti le ossa devi farti le ossa passiamo al prossimo ciao Davide ciao ciao a tutti seguaci followers del canale buon Natale buone feste buon Natale inizio anno va bene gli auguri come al solito guardiamo un po' cosa ci propone l'amico sopra la tovaglia natalizia rossa che la vedo allora c'è intanto Stevie Ray Vaughan mitico chitarrista un po' Southern suona così poi di Purple che c'è Richie Blackmore e Led Zeppelin dove c'è Jimmy Page perché perché quelle lì da Dario altri non sono che le corde per la chitarra elettrica quindi l'amico è un chitarrista come si vede anche dai plettri fender e i bannets facciamo un po' di pubblicità alle case che costruiscono chitarra va bene dai però Gibson non c'è non c'è il plettro Gibson va bene andiamo avanti ti faccio vedere Davide l'andamento della mia collezione con i guanti di lattice questo è uno zuiosa mi l'ha regalato mia moglie per Natale brava già lo conosciamo ma molto carino simpatico molto carino simpatico bracciale mi piace molto stondato così stile president stile president bravo che spacca praticamente dal resto del della testa dell'orologio e della cassa che è tutta spigolosa squadrata bravo mi piace molto molto bello molto molto bello carino carino molto molto bello bravo e poi il mio regalo personale che mi sono fatto questo Citizen serie 8 GMT minchia Batman versione Batman questa è la nuova serie di Citizen no si chiama serie 8 ora anche lì fa la confusione serie 8 anche qui un nome un bel nome come si deve no che è accattivante che tutti ripetono quel nome no serie 8 come se fossimo no matematica serie 8 poi dentro c'è i calibri della serie 9 serie 9 no uno diceva cosa ne pensi del Citizen serie 8 e uno pensa subito al calibro 8000 ti spara le cavolate no e invece questa qua è una nuova dovrei diventare capo del marketing di qualche casa per insegnargli un po' come si fa ora lo chiamavano Citizen Chabaranga no almeno si ricorda Chabaranga Chabaranga si ti piace Chabaranga si no ti piace il serie 8 minchia cosa è una BMW può piacere come non piacere massima originale lucidature biselli lucidi satinature verticali orizzontali è una cassa molto particolare hai imparato la lezione dai ma proprio perché particolare mi piaceva averlo in collezione mi piace la corona vetro zaffero antiriflesso GMT calibro 90-54 miota però esclusivo solo per questo CityZen qua Cotto di Geneve la finitura fondello a vista sta anche male parlare di Cotto di Geneve su un calibro giapponese no cioè bisogna utilizzare anche degli altri termini come a volte sento dire riferita a Seiko la maison maison è un nome francese con la quale si indicano le case francofone no cioè sta male come dire è brutto dire maison anche riferita a un tedesco o un giapponese cioè sarebbe trovare un nome adatto al Giappone no il Cotto di Geneve inventarle fare un'altra qualcosa di differente facciale bellissimo perché queste spigolature lucide satinate lucide satinate è molto originale lo trovo lo trovo molto originale sinceramente che dire niente corona pressione brutta però carica manuale ovviamente automatico ma anche manuale l'Atario R3 parapolzi ponzi p ghiera mi sembra dovrebbe essere vetro non credo sia ceramica il dial in questa versione nera qua Batman i giochi di luce non sono molto evidenti però a detta di Citizen dovrebbe riprendere lo scaline di Tokyo o i balconi di grattacieli o qualcosa del genere insomma vabbè da una balla ho preso questo colore qua perché è un pochino più più sobrio mi piaceva più insomma bello massiccio eh sì già avanti niente tutto qua tutto qua spero ti ti piaccia anzi spero che di vederlo in una tua recensione per sapere quello che ne pensi tutto qua tutto qua buon Natale ancora buone feste buon anno e a presto a presto rock anche a te famiglia no? come si suol dire e basta con questi auguri ma c'è un video per due orologi va bene cosa vuoi che ti dico due Citizen tra l'altro uno Tsuyosa con calibro 8000 in quel caso e un serie 8 GMT con calibro serie 9 belle scelte sinceramente chiaramente il Citizen serie 8 costicchia anche perché è un pochino più fatto meglio dai insomma Citizen è capace di fare cose economiche cose fatte 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 di pregio niente da dirti va bene sei promosso cosa ti posso dire di più per quanto riguarda la recensione di quello lì dovrei comprarlo per fare la recensione e mi scoccia un pochino spendere tutti quei soldi per poi dopo avercelo lì in collezione e non usarlo perché c'è con tanti orologi che ho comprarne apposta per la recensione non significa che poi mi piacciono talmente tanto che lo comprerei non so se mi sono spiegato un orologio in più in collezione se mi piace tanto lo piglio lo compro un orologio in più in collezione che lo prendo solamente per fare la recensione no capito quindi via prossimo video ciao Davide ciao Marco da Torino tanto voglio farti i miei più grandi complimenti per quanto riguarda il tuo canale e ringraziarti perché se mi sto appassionando a questo meraviglioso mondo e sto iniziando anche a capirci qualcosina di orologeria e soprattutto grazie ai tuoi video grazie a te tanto bando bando guardiamo un attimino cosa ci offri qua come aperitivo allora gli ACDC If You Want Blood io got it ce lo metto io perché qua non c'è gran bel disco ACDC gruppo che ho visto un paio di volte dal vivo bravi 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 poi i saxon non li ho mai ascoltati tantissimo non è che mi fanno impazzire Denim and Leather è il titolo del disco del disco jeans e pelle gli schiantos grande gruppo degli anni 70-80 che insomma però non è che mi sono mai garbati Johnny Thunders and the Heartbreakers non mi garbano per niente non li conosco i cult i cult hanno cominciato ad entrare nella mia cerchia di apprezzamento nel 1987 proprio con il disco 1987 dove c'era no era electric il disco dove c'era come only the devil come only the devil e altri altri grandi bei pezzi e lì hanno cominciato a fare una musica molto simile a quella degli sinistri con le chitarre così perché prima erano molto più psichedelici I love the rain roba così va bene comunque ci siamo ci siamo andiamo andiamo alle ciance su questo tappeto di alcuni tra i miei artisti preferiti perché purtroppo non avevo trovaglietti della nonna che so che a te piacciono molto da mostrarti ti mostrerò la mia collezione appunto su questa bella base rock and roll allora cominciamo col primo orologio che ho posseduto ed è questo Vagari Quarzun cronografo a batteria regalo della comunione nulla di che però ci sono molto affezionato un po' perché è un ricordo e un po' perché è questo l'orologio su cui ho iniziato a fare dei miei piccoli tra virgolette esperimenti come aprirlo cambiare la batteria guardare un po' come è fatto all'interno ecco diciamo che per questo è stato molto molto utile e ci sono affezionato affezionato bravo andiamo avanti con un paio di ciofechine che però non posso non mostrarti io sono anche appassionato di fumetti e ho scoperto che la cronotech fece una linea dedicata a Dylan Dog ne mostro solo uno bravo in realtà ne ho recuperati tre di questa serie certo non sono niente di che al quarzo hanno solo la particolarità appunto di avere stampato sul quadrante questo personaggio che amo molto e nulla ho pagato poco meno di 20 euro euro a un fondo di magazzino con tanto di scatole garanzia ma sei anche te uno di quelli che gira gli orologi che li muove così perché ti banno e ti sto per chiudere tutto così direi che è una spesa minima che potevo tranquillamente affrontare per togliermi lo sfizio andiamo avanti sempre a tema fumetto quando l'ho visto me ne sono innamorato un Timex Charlie Brown con la particolarità non si vede molto in video ma diventa molto luminoso quando si schiaccia la corona mi piacque molto per la particolarità del cinturino che richiamava la trama dell'abbigliamento del buon Charlie e delle manine che vanno a indicare l'ora un po' come succedeva in quelli di Mickey Mouse più vintage ecco simpatico nulla di che ma molto solido orologino simpatico e anche in questo caso mi sono tolto lo sfizio bravo andiamo avanti con questo Citizen Eco Drive che mi regalarono a un compleanno anche questo nulla di che anche io non amo molto gli Eco Drive prima possedeva un cinturino d'acciaio ovviamente era un serpente a sonagli molto plasticoso nonostante fosse d'acciaio cinturino d'acciaio nulla decisi di farci qualche modifica e personalizzandolo un po' gli comprai questo bel cinturino dopo che vedi il film punto zero mi focalizzai molto sul cinturino utilizzato nell'orologio del protagonista che forse era un ball head ma non ne sono certo e così ho colto l'occasione per diciamo personalizzarmelo e farmelo piacere un po' di più ecco la di che ma ci sono affezionato andiamo avanti con l'ultima presa e forse l'unica degna di nota ed è il mio citizen pro master full lumen vabbè non ha bisogno di presentazioni io gli ho montato questo cinturino in pelle forse ho usato un po' troppo forse è davvero troppo classico però in realtà più lo uso più mi piace quindi diciamo che ancora per un po' lo utilizzerò con questo cinturino metterò il suo bracciale la storia di questo citizen è molto particolare perché l'ho acquistato con i soldi ottenuti da un reso di un certo prodottino targato a DS dive marca di cui molti si riempiono la bocca chiamandola affidabilissima ben fatta nonostante siano mere copie di orologi più famosi e niente sarà che io sono stato sfortunato mi sarà arrivata l'unica copia poco attendibile ma guarda un po' cosa mi è successo per una semplice botta presa dall'altezza della mano mentre gli cambiavo il cinturino mi è caduto sul tavolo e questo è il risultato oppela no no lo voglio rivedere un attimo scusa lo sto riguardando perché tutti gli indicini che si sono staccati simpaticamente con la colletta di dietro i buchini ma si è staccato anche il logo non si trova non si vede il logo bababia è quello che dicevo l'altra volta cioè la qualità degli orologi poi si vede nel momento della difficoltà quando prende un colpo un urto quando ti dimentichi con la corona aperta oppure quando ci sono delle situazioni che lo mettono a dura prova perché sennò da così staticamente sembrano tutti belli comunque meno male che c'è una testimonianza un po' così se no ecco come avete potuto vedere ripeto magari non sono fatti tutti così magari sono stato io sfortunato però dopo questa brutta esperienza non posso far altro che ovviamente sconsigliarvi questi brand di queste copie perché ad affidabilità diciamo non sono il massimo almeno per quanto riguarda la mia esperienza molto meglio riuscire ad accaparrarsi un classico senza tempo come questo citizen detto questo la mia collezioncina umilissima è finita io ti ringrazio ancora Davide saluto tutti gli amici del canale e come dici sempre tu love 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 e insomma però te sei tanto allegro ma io non sarei tanto allegro perché non è che sei messo bene bene anche te cioè oggi c'è uno con tanti Rolex e poi tutti gli altri che sono messi malino che sono lì per cadere giù dal dirupo con gli orologi che si ritrovano l'unico tuo merito il pregio è di aver visto la luce cioè ti sei ravveduto hai comprato l'Addis copia di un qualsiasi altro orologio famoso poi ti è caduto dalla mano è battuto sul tavolo tutti gli indici sono andati a ramengo sembrava uno Shanghai sembrava no quando fai lo Shanghai e sono andati a finire così e quindi l'hai dato indietro e hai detto ma sarà meglio che mi pigli un citizen cioè questo lascia anche un po' ora pensavo quanti orologi vintage troviamo anche sulle bancarelle che cavoli gli indici non si staccano mai a nessuno e invece ci sono orologi moderni come non è la prima volta che lo sento dire entry level ai quali gli si staccano gli indici anche il mio amico nel cassetto ci aveva lasciato un lock woman e gli ha trovato con gli indici staccati senza niente proprio senza quindi insomma fa un po' pensare questa cosa comunque dai sei ancora in tempo per vedere la luce per salvarti hai preso il citizen pro master ci hai messo il cinturino di cuoio marrone che non c'entra una minchia non c'entra proprio sta male mettici quello giallo che poi dopo d'estate fai cucchia anche te lo dico io che d'estate con il pro master col cinturino giallo becchi becchi sicuro ragazzi mi sembra di aver detto tutto anzi per meglio dire boh mi sembra di aver detto tutto vi ringrazio per essere arrivati fino qua spero vi siano piaciuti i video il commentatore dei video e anche il video in una sua globalità non mi resta quindi che ricordarvi gli appuntamenti fisiche come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love ciao 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 Grazie a tutti.